e il rapporto con le nuove generazioni ma in particolare abbiamo Luca Valtorta che è il direttore di XL che ci parlerà proprio di come nasce un progetto editoriale per un grande gruppo come quello di Repubblica perché XL è legato chiaramente a Repubblica e stasera inoltre c'è questo party dove siete invitati che si terrà alle 22 al Nessun Dorma quindi speriamo anche di vederci in una situazione non solo di carattere accademico quindi adesso io vi presenterei le persone che sono insieme a me innanzitutto c'è Luca Valtorta il direttore di XL che sarà un po' il protagonista della giornata. Accanto a lui c'è Antonio Princigalli che è il coordinatore del progetto Puglia Sounds un progetto che immagino voi conosciate ma che ha sicuramente rivoluzionato le politiche culturali legate alla musica pugliesi ed è un esempio che è stato riportato in tutta Italia e non solo perché uno degli asset, uno dei progetti di Puglia Sounds è proprio quello legato all'internazionalizzazione e ne parleremo insieme al suo protagonista, in questo caso il coordinatore noi abbiamo come sapete un partenariato con l'Ordine dei giornalisti di Puglia questa mattina il Presidente Paolo Lafoggia non può intervenire perché è impegnata con improrogabili motivi di lavoro però abbiamo il Vice Presidente che credo sia anche molto opportuno che sia qui perché Pier Paolo Lala non è solo un giornalista tucur ma si occupa in particolare anche di musica e quindi la giornata mi sembra propizia invece io inviterei subito la Professoressa Ines Travasini ad aprire un po' i lavori di questa mattina anche come saluti istituzionali e poi a contestualizzare un po' magari la giornata. Grazie Professoressa Allora in questi tempi difficili mi sentite? Sì verrebbe voglia di iniziare con una domanda dove sta andando l'università oggi? e verrebbe anche voglia di rispondere chiedendo una domanda di riserva purtroppo anche per fortuna chi lavora nell'università non può chiedere la domanda di riserva deve farsi carico appunto della difficoltà del momento e cercare di dare una risposta a questa domanda come voi sapete perché siete studenti la maggior parte di voi e quindi sulla vostra pelle siete a conoscenza insomma della realtà l'università oramai da più di dieci anni sta attraversando un periodo difficile di continue riforme e parallelamente sta subendo un processo di impoverimento non solo per le risorse che diminuiscono di anno in anno le risorse economiche ma ahimè anche per le risorse umane e intellettuali perché noi abbiamo dei blocchi molte università hanno dei vincoli serissimi e non possono più assumere nuovi docenti e quindi con questo panorama critico a noi spetta però il compito di continuare a mantenere viva l'università e a garantire quello che è il nostro scopo principale ovvero la trasmissione del sapere però trasmissione del sapere non è solo guardare alle nostre spalle e trasmettere appunto le conoscenze del passato e darvi appunto le competenze sulla base della tradizione anche degli studi per affrontare il presente ma è anche usare il sapere per immaginare un presente e un futuro diversi domandarsi appunto verso dove stiamo andando che cosa possono fare i nostri studenti oltre a essere io sono presidente di un corso di laurea delle lauree magistrali di lettere e quindi principalmente diciamo il mio corso di studi è votato a formare docenti ma ovviamente non è solo questo perché i nostri corsi siano ancora appunto un luogo vivo di cultura dobbiamo guardarci intorno e inventarci anche delle immaginare delle nuove professioni e dare ai nostri studenti gli strumenti e le competenze per poter loro stessi immaginare un mondo diverso delle professioni diverse loro che appunto appoggiandosi sul sapere degli antichi possono appunto invece immaginare anche grazie alle nuove tecnologie un futuro, un mondo diverso e questa premessa così un po' stucchevole forse però penso che sia adeguata per presentare proprio questa iniziativa che è uno di quei momenti felici in cui l'università riesce ad incontrare il mondo del lavoro le competenze appunto con cui dovrebbe costantemente dialogare e quindi da qualche tempo l'Ateneo di Bari ha intrapreso un cammino insieme alla redazione di Pool che ha avuto una sua prima tappa appunto con la creazione di questo giornale che oramai voi tutti conoscete Pool Academy e che speriamo resista e possa continuare a essere un'esperienza di lavoro comune in futuro e questa è una seconda iniziativa particolarmente felice infatti insomma poi si vede anche dall'affluenza degli studenti che sanno riconoscere insomma quando le iniziative sono valide e quindi è un momento appunto in cui l'università accoglie al suo interno e lo fa con grande piacere competenze esterne per cercare appunto di costruire con delle attività parallele a quelle delle discipline istituzionali un percorso formativo che appunto sia per voi veramente costruttivo e utile molteplice, ricco e appunto vi prepari ad affrontare il domani io non vorrei insomma dilungarmi troppo però sono contenta di ringraziare in questa occasione tutti gli enti che hanno partecipato a questa iniziativa accanto ovviamente all'università il master di giornalismo l'ordine dei giornalisti il distretto produttivo della Puglia Creativa e poi ovviamente il gruppo di PUL che è un po' l'anima di tutta l'iniziativa e che con competenza e immaginazione ha saputo proporvi questo seminario appunto quella competenza e quella immaginazione quella creatività che noi speriamo sia una delle caratteristiche della formazione degli studenti delle facoltà umanistiche e quindi qui penso sia alle facoltà ai corsi di studio dei dipartimenti che qui sono più interessati cioè quello di lettere, lingue e arti e quello di scienze della formazione ex scienze della formazione e comunicazione scusatemi ma con i nuovi nomi siamo ancora un po' in fase di rodaggio e quindi vi auguro insomma buon lavoro e vi lascio ascoltare sicuramente cose più interessanti Adesso io passerei la parola a Pierpaolo Lala e dato che Pierpaolo è molto telematico e digitale vi invito subito a collaborare e twittare con noi ho visto che stamattina già è partito il lavoro su Twitter e quindi come nelle altre giornate vi inviterei ad utilizzare l'hashtag che leggete lì che è linkfestival quindi cancelletto linkfestival e iniziare a pensare delle domande che poi andremo a selezionare per porgerle ai relatori che vedete qui di fronte quindi iniziate a pensarle iniziate magari a scriverle e se le twittate attraverso Twitter usate chiaramente l'hashtag per farcele leggere Pierpaolo allora vicepresidente dell'ordine dei giornalisti un'esperienza quasi triennale è ormai quasi terminata perché tra un po' si vuota ed è una personalità che ripeto unisce competenza giornalistica e molta attitudine anche all'innovazione e a quelli che sono i nuovi media con una conoscenza e una passione particolare per la musica prego Pierpaolo dopo questa presentazione si aspetteranno un grande intervento tanto vi porto il saluto della presidente Paola Laforgia che oggi è bloccata come diceva Michele dall'arrivo a Bari di Berlusconi che non si sa quando arriva o quando non arriva lei essendo una redattrice dell'ANSA dovrà stare per strada parlando del giornalismo per carpire le informazioni dall'ex presidente del Consiglio quindi io tra l'altro intervengo volentieri sarei venuto comunque Michele lo sapeva perché questo festival devo dire che appena mi ha mandato il link mi ha subito interessato anzi mi dispiace stando a Lecce non poter essere qui tutti i giorni domani spero di tornare perché comunque e come ordine giornalista abbiamo subito dato il patrocinio a questa iniziativa purtroppo quando si dice parola patrocinio non ci sono dei soldi che sono stati dati all'iniziativa però il patrocinio perché come dire già eravamo entrati in contatto con Michele noi ci conosciamo da tanti anni per questioni lavorative però altre sue iniziative sono state già patrocinate dall'ordine giornalisti perché appunto bisogna andare in questa direzione della formazione continua e adesso anche vi spiego che cosa intendo dire innanzitutto mi presento perché in questa sala tranne alcune delle persone sedute al tavolo e qualcuno tra di voi nessuno mi conosce sono Pierpaolo Lala ho 35 anni vado per i 36 quindi in Italia sono ancora giovane in Europa non più scrivo sui giornali da quando avevo 18 anni diciamo sui giornali ufficiali ma ho un percorso quello che ai nostri tempi faccio il nostalgico erano le fanzine insomma le cose fotocopiate e quindi ho iniziato da 13-14 anni con queste esperienze vi dico questo perché a voi non ve ne frega niente però diciamo il ragionamento che voglio fare per poi dare la parola subito a Luca è questo cioè io ho iniziato nel 96 nei giornali appunto ufficiali e il mondo era completamente diverso cioè nel senso che io ho iniziato e non c'era internet cioè usavamo ancora i fax una cosa che io poi nella mia carriera di addetto stampa non ho mai mandato un fax faccio questo lavoro da dieci anni e ancora usavamo i fax era un mondo completamente diverso i computer soprattutto nelle redazioni di periferia erano quasi una chimera io ricordo il mio vice direttore all'epoca aveva addirittura ancora la macchina da scrivere non utilizzavo il computer quindi un mondo completamente diverso che è cambiato in maniera molto rapida in questi tre anni di esperienza all'ordine giornalisti io sono vicepresidente dal 2010 appunto come diceva Michele il mio mandato scade tra pochi giorni però adesso non per cercare delle scuse perché così fanno anche i politicanti però ci siamo trovati forse nel periodo più difficile dell'informazione perché il periodo economico è quello che conoscete e i problemi economici sull'editoria si sono abbattuti in tutta la loro potenza quindi un mondo del giornalismo che sta cambiando in maniera molto 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 repentina repentina non basta è molto 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 repentina perché l'arrivo di internet ovviamente ha sconvolto ha sconvolto tutto se adesso chiedessi a voi chi legge il giornale di carta possiamo anche fare questa cosa per alzata di mano cioè chi chi di voi la mattina si alza esce si prende il caffè entra in un'edicola questo luogo misterioso e acquista un giornale un quotidiano chi è che alza il quotidiano alzate i quotidiani ecco chi c'è il quotidiano allora la variante chi legge i quotidiani sui tablet ecco questa è la variante chi si informa solo su internet chi non si informa proprio c'è qualcuno che non ha alzato la mano abbastanza perché per differenza mi sa che mi pare che diciamo chi sta guardando facebook adesso mentre e sta scrivendo ma chi è questo che parla hashtag link facebook qualcuno l'avrà scritto però effettivamente anche questa cosa che diceva ovviamente luca è fondamentale c'è il rapporto non soltanto di andare a vedere le informazioni sul sito internet ma di percepire le informazioni di recuperare le informazioni quindi di seguire i link che ti postano gli amici che postano gli amici o su twitter o su facebook quindi in qualche modo anche da quel punto di vista questa è una mia come dire impressione da quello che ho visto in questi tre anni anche a livello locale c'è il rischio che salti un po' quel ruolo di mediazione diciamo così io sono appunto come dicevo un po' vecchio non leggo molti giornali di carta ormai uso sostanzialmente il tablet perché tra l'altro conviene e conviene molto però come dire il giornale ha una linea il giornale ha un palinsesto il giornale ha una riunione di redazione il giornale ha un pensiero ok almeno questa è l'impressione che ho io rispetto non dico ai siti internet ma l'uso che noi facciamo dei siti internet cioè il fatto che noi arriviamo alle notizie da link perché ce l'ha segnalato un amico perché l'ha postato uno figo che seguiamo su twitter eccetera eccetera leggiamo l'articolo ma molto spesso non riusciamo a contestualizzare dove sta quell'articolo tante volte infatti ma questa diciamo è una riflessione empirica diciamo così anche nelle ultime settimane negli ultimi giorni con rapidità fulminea sulla rete viaggiano delle bufale clamorose cioè notizie che uno dà per scontato che tu prendi inizia a rituitare una volta che tu rituiti o che condividi poi è difficile convincere che quella sia una notizia falsa mentre il giornale c'è la smentita il giorno dopo sulla rete una volta partita anche se arriva la smentita la smentita non va mai veloce quanto la notizia in quel caso in quel caso falsa e quindi diciamo rispetto a questa idea del giornalismo io dico che ci troviamo di fronte ad un momento complicato che deve portare ad una seria riflessione molti di voi sono studenti di scienza e comunicazione da anni diciamo non da pochi ma da molti anni c'è una grande riflessione sul ruolo dell'ordine dei giornalisti si aspetta una riforma che non arriva mai la legge istitutiva dell'ordine dei giornalisti è del 63 sono passati 50 anni il mondo è completamente cambiato eppure siamo ancora legati a determinate regole a determinate idee che appunto erano file degli anni degli anni 50 quindi neanche poi della rivoluzione degli anni 60 proprio degli anni 50 quindi immaginatevi che cosa può essere oggi quella legge e come dovrebbe essere riformata però io credo che nonostante tutte queste difficoltà il fatto che negli ultimi anni sia tornata perché dopo un breve stop adesso è tornata preponderante l'utilizzo dei blog l'utilizzo come dire dell'informazione fatta in casa domani parlerete anche del citizen journalism però credo che il ruolo fondamentale della mediazione come dicevo prima della professionalità del giornalista sia ancora al centro delle dinamiche dell'informazione questo secondo me nel senso parliamo anche così rapidamente del settore musicale per molti di noi leggere delle firme è sinonimo di garanzia cioè tu stai leggendo la firma X che ti dice che quel disco è bello brutto tu ti fidi di quella firma e vai a colpo sicuro cioè sai comunque che nel corso degli anni nel corso dei mesi leggendo e rileggendo quel giornale quella webzine eccetera hai fidelizzato il tuo rapporto come dire con i gusti del giornalista o del recensore questa cosa però diciamo nella dinamica del blog del fai da te anche del social stesso forse un po' cade perché se uno dice quel disco fa schifo poi tra l'altro sui social si leggono dei giudizi veramente che dire beceri è poco però cosa ti porta cosa porta quello scrivente ad avere come dire la tua fiducia ecco questa è la domanda che mi può quindi secondo me questo rapporto di mediazione questo rapporto di continuo studio che fanno come dire i giornalisti professionali non dico professionisti ma dico professionali secondo me è fondamentale anche nel futuro e qui arrivo diciamo a questo appuntamento ad una cosa che è stata approvata dall'ordine giornalisti pochi nella riunione dell'altro ieri diciamo è stata perfezionata cioè quello della formazione continua cioè io la domanda che pongo e che mi pongo sempre è il giovane che si approccia al giornalismo il giovane che si approccia all'editoria al mercato editoriale il giovane che magari esce da scienza della comunicazione e vuole fare un'esperienza è meglio se la va a fare in una situazione in cui c'è qualcuno che ha fatto questo mestiere l'ha fatto negli anni difficili l'ha fatto come dire passando questo questo spartiacque e quindi che ti può insegnare ti può dire hai sbagliato ti può dire guarda che così non si fa oppure uscire dall'università ed essere convinti di sapere fare tutto aprirsi un sito internet aprire un blog e ripetere costantemente i propri errori senza che nessuno ti dica guarda che stai sbagliando cioè questo secondo me è il rapporto che dobbiamo continuare a costruire fra l'editoria in generale il giornalismo e il mondo giovanile io vi dico qual è la mia esperienza io dopo i giornali diciamo nel 96-97 ho aperto questa cooperativa che si chiama Cool Club abbiamo iniziato subito a fare una webzine ma vera cioè noi prendevamo un foglio a tre lo fotografiavamo fronte e retro così si faceva e scrivevamo cose che rileggendole oggi mi vergogno però è chiaro che da un po' di errori e soprattutto dal fatto di relazionarsi con quelli più grandi di te che hanno fatto questa professione che ti danno dei consigli eccetera eccetera abbiamo poi consolidato una posizione il giornale l'abbiamo fatto per dieci anni adesso siamo solo sul web per ovvi motivi economici però quello secondo me sta al centro del rapporto cioè il fatto di continuare a studiare la formazione continua che adesso sarà obbligatoria per i giornalisti è fondamentale perché anche nelle redazioni chi è convinto di sapere tutto di sapere tutto della cronaca della politica di sapere tutto di come si fa un giornale oggi di come si utilizzano i social per promuovere le proprie notizie credo che non abbia capito nulla diciamo quindi chiudo questo mio primo confuso e confusionario intervento per poi passare alle domande dopo con questa riflessione cioè il fatto che ci troviamo di fronte ad una vera sfida al fatto di ricostruire e di ripensare il mondo dell'informazione e dell'editoria perché le sfide che la tecnologia ci propone sono veramente molto ampie e dobbiamo stare tutti molto attenti a non fermarci sulle nostre posizioni ma a guardare a fianco a capire che sulla rete come nel mondo reale c'è sempre qualcuno che sa qualcosa più di te e quindi andare avanti in questa direzione grazie 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 Pierpaolo Lala l'appuntamento di questa mattina per noi è molto importante e mi ricollego proprio a quello che diceva Pierpaolo noi abbiamo pensato a questa iniziativa proprio nella consapevolezza di non sapere tutto quello che sta accadendo ma con la convinzione che per l'editoria e per il giornalismo in particolare questo sia un periodo particolarmente proficuo per sviluppare nuovi modelli e nuove idee e pensiamo che le nuove idee possano provenire proprio da una generazione nuova che suo malgrado per certi versi è costretta a interagire con le nuove tecnologie è costretta a interagire con una modalità di informazione che si sviluppa in maniera ultra veloce che molto spesso deve vedere proprio una consapevolezza da parte del lettore nell'approfondire le informazioni che poi gli arrivano e questo è proprio lo spirito con cui abbiamo invitato Luca Valtorta perché la sua esperienza ormai ultra decennale e in particolare l'esperienza con XL può essere secondo noi un perfetto viatico per comprendere che cosa sta accadendo e che cosa è accaduto quali sono i cambiamenti quindi io cederei la parola al direttore di XL e noi avremo questa prima parte più seminariale dove ci sarà proprio una lezione frontale nel frattempo mandateci le vostre domande poi faremo una piccola pausa e interagiremo in maniera un po' più dinamica buongiorno a tutti intanto sono molto felice di essere qui in questa splendida sala in questa università perché l'università come dicevo prima la professoressa è sempre un mondo interessantissimo a cui rapportarsi appunto un mondo di persone che stanno crescendo e stanno per affrontare il mondo con entusiasmo sono molto interessanti gli spunti che ha dato Lala dopo magari andremo a parlarne e sentiremo anche quello che voi avete da dire perché appunto immagino che utilizziate le nuove tecnologie quotidianamente io devo dire sono molto più vecchio di lui ho 48 anni e subito dopo l'università ho iniziato a collaborare con i giornali di carta ma devo dire che io comunque devo tutto alle tecnologie nel senso che ma insomma si parla di questo mestiere come mestiere impossibile da affrontare tanto per parlare d'Italia se non si è raccomandati o insomma se non si hanno conoscenze eccetera io non conoscevo nessuno ho iniziato seguendo una passione in primis quella per la musica ma per la cultura to court a 360 gradi un certo tipo di cultura tra l'altro che non aveva una grandissima rappresentanza nei media diciamo più importanti e istituzionali e tutto sommato ancora adesso non ce l'ha io ho iniziato un tempo appunto cioè oggi ci sono le webzine che sono il modo più immediato e facile per riuscire a scrivere un tempo appunto c'erano delle riviste di settore io ho iniziato per una oscura rivista che si chiamava High Folks e che parlava agli inizi di musica folk ma quando sono entrato io io ho portato diciamo la quota a rock e loro si stavano aprendo a questa cosa per cui ho iniziato lì devo dire che mi è stato fatto un discorso molto onesto della serie noi non possiamo pagarti però attraverso questo piccolo giornale hai comunque la possibilità di capire come funziona il sistema dell'industria discografica quindi di conoscere di approcciarti di fare interviste e devo dire che in effetti fu così lavorai per due anni gratuitamente mettendo tutto me stesso per cercare di imparare appunto come diceva lui da queste persone che facevano questo mestiere in maniera cioè compassione ma anche con grande professionalità dovete pensare appunto una Milano di quasi 30 anni fa in cui l'industria discografica era ancora trionfante nel senso importante funzionava era qualcosa di vivo e di vivace dentro c'erano incompetenti assoluti ma anche persone di grande pregio che convivevano in maniera bizzarra però ecco era veramente interessante quando la discografia era discografia anche l'organizzazione delle interviste funzionava come dire perché poi adesso vi racconterò perché spesso e volentieri invece non funziona più quindi in questi anni riuscii a raccogliere molto materiale che in maniera diligente raccorsi in una cartelletta e poi portai al primo giornale importante in realtà ce ne furono altri nel mezzo però semplici collaborazioni in sostanza mentre siccome la mia idea era di avere a che fare con la musica andai da quella che a Milano rappresentava l'unica struttura professionale vera legata a quel mondo cioè quella di Sorrisi e Canzoni nello specifico il suo mensile che si chiamava tutto musica e spettacolo andai lì portando cioè chiedendo un appuntamento che mi venne concesso parlando con il caporedattore che si chiamava Peppo del Conte che come dire è stato uno dei padri della scena della critica musicale italiana magari meno conosciuto rispetto che so a un Bertoncelli perché ha sempre fatto un lavoro chiamiamolo di desk ma in realtà è stato uno degli artefici si chiamava Peppo del Conte comunque e aveva lavorato per giornali di quella che allora era la cultura underground come Renudo piuttosto che Gong Muzak i giornali insomma della controcultura giovanile dove un certo tipo di musica si andava proponendo appunto al di là delle rappresentazioni dei media ufficiali poi anche Assante Castaldo colleghi che poi ho ritrovato a Repubblica per lui erano giovani ragazzi di bottega in realtà sono attempati signori che hanno passato ormai 50 anni e che anzi stanno arrivando a quasi i 60 e che tra l'altro qui a Bari tengono lezioni di rock però ecco io sono nato con l'idea che fossero dei giovincelli perché li ha tenuti a battesimo quello che era stato il mio caporedattore e devo dire che appunto mi diedero un incarico immediatamente cioè io da portatore di nuove idee in qualche modo attento a quelle che allora erano le nuove tendenze gli proposi subito un pezzo su quelle che allora si chiamavano le posse cioè il rap cominciava a entrare in Italia ci entrava in una maniera particolare sostanzialmente in due modi o tramite i centri sociali quindi le famose posse appunto e poi c'erano invece altri che facevano hip hop e rap iterandolo più dall'esperienza americana io da un lato fui fortunato perché nell'andare a fare questo pezzo c'era proprio questo evento importante che si teneva la notte dei marziani italiani si chiamava a Torino chiamai subito un amico fotografo anche lui alle prime armi andammo a seguire questo evento rimasi lì un giorno intero e intervistai tutti i principali protagonisti praticamente una ventina di persone li fotografammo tutti insomma portai questo servizio completo a tutti gli effetti e quello fu il viatico per entrare sostanzialmente in questo giornale importante che poteva pagare e quindi poteva anche permettere di vivere facendo questo lavoro quindi dopodiché naturalmente era un giornale estremamente mainstream io avevo gusti diversi in copertina essendo comunque il mensile di sorrisi e canzoni c'erano i personaggi del mainstream di quel periodo che ne so 883 piuttosto che però proprio perché io portavo una cosa diversa anche lì ho trovato un posto quindi tra l'altro a differenza di altri colleghi che sgomitavano per intervistare Vasco Rosso e Ligabue a me interessava intervistare invece i piccoli cioè fare un lavoro di scoperta di situazioni nuove e infatti da lì a qualche anno proposi una rubrica che si chiamava Italia 2000 e iniziai loro l'accettarono perché ci approcciavamo al 2000 appunto in quegli anni e quindi il mio lavoro era sostanzialmente andare a vedere due o tre concerti per sera a Milano si poteva fare avevo anche la fortuna di stare vicino a uno dei posti importanti che si chiamava tunnel dove si svolgevano i concerti della scena italiana all'ora emergente per cui facevo questo lavoro sul campo con grande attenzione ai fenomeni andando a vedere più concerti possibili e poi appunto selezionando ogni mese una decina di gruppi che presentavo in questa rubrica raccontandoli attraverso l'uscita del loro album o segnalandoli allora l'uscita dell'album era una cosa estremamente importante per cui tendenzialmente costituiva veramente un primo gradino importante contestualmente si affermavano appunto le prime etichette indipendenti anzi persino le major discografiche cominciavano ad aprire al loro interno delle micro etichette indipendenti proprio per cercare di captare questa nuova onda che arrivava in parte appunto dall'hip hop dai centri sociali che costituivano in quel momento in Italia un luogo privilegiato per un certo tipo di musica che non trovava altri spazi se non quelli oppure luoghi come il citato tunnel che erano nuovissime ma un buco veramente oppure esperienze incredibili come il bloom di Mezzago dove in mezzo alle nebbie lombarde eravamo costretti ad avventurarci per vedere concerti straordinari di gruppi che poi sarebbero diventati famosi in tutto il mondo come Nirvana Soundgarden che suonarono nel bloom di Mezzago appunto questo luogo in mezzo alla campagna passarono tutti di lì fu un'esperienza straordinaria quindi le persone fanno la differenza cioè la voglia di quelli che allora erano i ragazzi del bloom di mettersi in contatto con il mondo con un certo tipo di mondo e di creare da Mezzago quello che sarebbe diventato uno dei centri della musica di un certo tipo di musica live in Italia fa la differenza cioè nessuno a Milano riusciva a farlo loro ci riuscivano è incredibile però succede no? quindi così come i centri sociali e appunto che in quel periodo rappresentavano l'unico luogo dove un certo tipo di musica e di cultura anzi chiamiamola contro cultura aveva la possibilità di esplicarsi anche lì non senza lotte discussioni e contraddizioni perché per l'appunto non tutti all'interno dei centri sociali condividevano certe cose proposte dalle posse quindi o anche dai gruppi rock quindi è sempre un rapporto dialettico che però funzionava io ricordo poi anche in virtù di questo passando a giornali anche più importanti costituì comunque un buon viatico perché quando a Milano per esempio ci fu la questione del Leon Cavallo io feci per sette del Corriere della Sera un importante pezzo perché avendo la fiducia comunque del gruppo del Leon Cavallo i giornali tra virgolette normali non potevano entrare e invece riuscimmo con sette del Corriere ai tempi a fare un piccolo scoop con un grande pezzo di dieci pagine in cui entravamo per la prima volta nel Leon Cavallo con un fotografo facevamo vedere le iniziative che venivano faccio in un periodo in cui il Leon Cavallo veniva additato da una parte della cittadinanza e dei media della città come un pericolo noi riuscimmo su un giornale come il Corriere della Sera a raccontare un Leon Cavallo invece diverso un Leon Cavallo in cui si tenevano iniziative culturali in cui appunto la musica la programmazione musicale era una parte importante e continua che offriva veramente la possibilità di vedere una parte di mondo perché appunto allora come dicevo internet era agli albori agli inizi proprio non c'era e poi ancora per un bel po' di tempo sarebbe stata una cosa per pochi e questa diciamo è un po' la prima parte ma poi quando ho iniziato dicendo che la tecnologia mi ha aiutato è questo in sostanza io sono sempre stato attento anche alla tecnologia è sempre stata un'altra delle mie passioni e quello che mi ha permesso poi di diventare di passare da collaboratore di questo giornale di Mondadori a redattore è stata proprio la tecnologia vi spiego come e per questo appunto è importante stare sempre attenti cercare di essere sempre tra virgolette all'avanguardia perché io avevo internet e un computer portatile uno dei primi in un periodo storico in cui le redazioni non ce l'avevano ancora per cui quando cambiò la direzione a tutto musica io mi presentai alla nuova direttrice che essendo giovane aveva voglia di cambiare anche lei di rapportarsi a nuovi mondi arrivai con questo computer portatile con un piccolo modem e le feci vedere come ci si collegava internet sembra una cosa paradossale però questo è l'esempio di come in quel periodo storico una persona singola poteva avere più tecnologia di una grande azienda perché naturalmente la grande azienda procede in blocchi per cui soltanto almeno tre anni dopo sarebbe arrivata con i computer con internet eccetera eccetera in quel periodo ancora si usavano le macchine per scrivere quindi questa cosa l'affascinò completamente e quindi io cominciai quello che si chiama un periodo di abusivato stando dentro il giornale portandomi il mio computerino portatile che serviva di fatto a tutta la redazione il paradosso di un esterno di un collaboratore che arrivava portando questa grande innovazione con tutti che venivano da me a chiedere notizie o verifiche su certe cose e guardavano questa scatoletta ammirati e abbagliati ancora una volta poi mi venne in aiuto la tecnologia quando proposi un'altra cosa un'altra rubrica che sarebbe diventata importante dentro tutto musica cioè la rubrica dedicata ai videoclip che era fatta in due parti una appunto con i clip normali e anche qui perché mi serviva la tecnologia perché in quei tempi comprai era passato già un po' di tempo a quel punto comprai un performa un computer che consentiva di vedere dentro la televisione e di prendere delle immagini quindi anche qui grandissima innovazione avevo la possibilità di dare al giornale delle immagini digitali prese direttamente dal televisore anche in questo caso una tecnologia che loro non avevano e quindi questa rubrica si poteva fare perché io avevo a disposizione questa tecnologia in sostanza dopodiché l'altra parte della rubrica era ancora più interessante secondo me nel senso che era una parte di backstage perché l'altra fissa è che non può mai mancare comunque in questo mestiere un rapporto con la realtà e questo può essere invece un problema oggi quello che si diceva prima molte webzin o molti che appunto fanno magari un blog di critica musicale non hanno poi un rapporto con la realtà cioè è tutto digitale è tutto virtuale perché si scaricano magari gigabyte di cose eccetera e sono convinti di sapere però non è solo questo il lavoro cioè è anche appunto andare a vedere i gruppi conoscerli capire come lavorano e quindi questa parte di backstage era importante tenete conto che appunto allora il videoclip era un mezzo nuovissimo e interessantissimo che anche per il nostro paese costituiva un luogo per giovani registi dove cominciare a sperimentare magari facendosi le ossa appunto con gruppi emergenti per poi passare a situazioni più importanti e contemporaneamente cominciava ad esserci l'affermazione di MTV Italia che era nello stesso palazzo dove noi avevamo il nostro giornale cioè Mondadori e MTV per un caso si trovavano nello stesso palazzo quindi anche il dibattito con loro era continuo da questo punto di vista ed era l'MTV degli albori in cui il videoclip era estremamente importante quindi noi uscivamo e che ne so andavamo con i subsonica nel castello dove giravano il videoclip di tutti i miei sbagli stavamo lì per ore perché veramente fino alle cinque del mattino in quel caso nello specifico perché le riprese di un videoclip sono molto lunghe ovviamente però era anche un modo per avere un rapporto estremamente ravvicinato con i gruppi lontano dall'idea della classica intervista che anche appunto le case discografiche avevano e che cominciava già a mostrare un po' la corda nel senso che la gestione delle interviste e le modalità attraverso cui farle è un altro tema importante su cui magari poi torneremo per adesso mi preme sottolineare il fatto che effettivamente la ricerca di una modalità diversa che va dal di là della semplice intervista dello stanzione alla casa discografica è un'altra delle cose importanti che può fare la differenza in sostanza quindi ecco questo poi nel tempo col tempo dopo che riuscì finalmente ad essere assunto però naturalmente non fu semplice cioè questo fu un processo che durò una decina di anni in sostanza riuscì all'interno del giornale a ripercorrere appunto non avrei mai pensato che un giorno la persona che appunto a cui andai a mostrare il mio lavoro il caporedattore Peppo del Conte cioè che un giorno avrei preso il suo posto e invece col tempo così è stato cioè fu poi abbastanza veloce perché appunto lui andò in pensione ci furono tutta una serie di cambiamenti eccetera e alla fine questa portata di innovazione tecnologica ma non solo venne notata e anche lì cominciamo a impostare anche un'altra cosa che poi sarebbe stata un'eredità che ho portato a XL cioè iniziare a sviluppare parallelamente all'attività giornalistica cioè del fare il giornale di carta quella degli allegati ovvero i cd o i dvd che però appunto nel nostro caso nel caso di tutto musica almeno nel periodo in cui poi appunto cominciare ad avere un ruolo dirigenziale all'interno non erano semplici allegati come poi avrebbe fatto sorrisi di dischi usciti e rimessi in circolazione a un prezzo più basso la mia idea appunto la mia fissa è sempre stata quella dello scouting e quindi l'idea era di andare a fare dei cd veri e propri nuovi e quindi abbiamo realizzato negli anni delle piccole chicche come per esempio After Hours versus Verdena in cui i due gruppi interpretavano pezzi originali loro e poi delle cover che culminavano con un pezzo fatto insieme di quello sono particolarmente fiero perché quella fu proprio una nostra produzione c'erano anche più soldi in quei tempi non si trattava di molto però pagammo noi appunto la registrazione di quel disco che fu non un disco intero un EP però insomma qualcosa di importante di tangibile di un tipo di musica appunto poi particolare che secondo noi aveva grande qualità e poi partecipammo attivamente per esempio al Tora Tora proprio l'altro giorno ho tirato fuori quel cd perché è venuto a trovarci uno degli attori di quel periodo Valerio Suave che è stato il creatore di Mescal una delle più importanti esperienze di etichetta indipendente di quegli anni un'etichetta che aveva praticamente tutti After Hours Blu Vertigo la Cruz insomma tutto il il gota della Rocca Italiano è passato da lì e con lui appunto e con Manuel Agnelli degli After Hours pensammo questo festival e creammo appunto l'idea poi di supportarlo con questo cd allegato che desse modo attraverso una pubblicazione sicuramente mainstream come Tutto Musica che arrivava a tantissima gente dare la possibilità di ascoltare una compilation dei gruppi che poi avrebbero partecipato al Torra Torra era un'occasione molto molto importante quindi questo è un po' il lavoro fatto a Tutto Musica che poi è il motivo per cui ormai dieci anni fa venni chiamato invece al gruppo editoriale Espresso Repubblica Espresso per iniziare questa nuova avventura traghettando Musica di cui come dire ho diretto gli ultimi sei mesi di esistenza mentre preparavo un nuovo progetto che sarebbe poi diventato Repubblica XL il mensile di Repubblica appunto dedicato a musica ma non solo a musica a cinema arte cultura si sentiva appunto l'esigenza di allargare il campo e questa cosa per me era assolutamente benvenuta perché secondo me la musica appunto non è solo musica la musica è appunto anche tutto il resto nel senso che non ha senso fare un giornale di sola musica persone che ascoltano un certo tipo di musica secondo me guardano un certo tipo di film magari vanno a teatro a vedere certe cose al cinema scelgono cose di un certo tipo insomma io ho cercato di fare un giornale che da un lato avesse dentro la tradizione di Repubblica e si rivolgesse a un possibile lettore di Repubblica ma che naturalmente andasse anche al di là di quello che era il target del quotidiano perché giustamente il quotidiano era rivolto a un certo tipo di pubblico noi agli inizi volevamo rivolgerci a un pubblico più giovane sicuramente se si può collegare magari faccio vedere anche un po' di copertine degli inizi e quindi ho avuto questa possibilità straordinaria devo dire perché se voi ci fate caso sono ben poche ormai le riviste che nascono in Italia soprattutto nei grandi gruppi che nascono e tra l'altro che sono una creazione ex novo italiana piuttosto che un andare a prendere un brand un marchio famoso che viene dall'estero con tutto il rispetto però anche queste logiche di marketing insomma sono un po' il sintomo di una colonizzazione il fatto che comunque si vada a fare io adesso vabbè cito giornali che non c'entrano non sono che ne so mensurf cosmopolitan cioè cose di questo tipo boh insomma cerchiamo di fare i nostri giornali cerchiamo di anche qui creare qualcosa che possa avere un senso per noi si vede dietro si vedeva ok ecco allargo questo questo è stato il primo questo è stato il primo numero di XL esatto il primo storico numero di XL beh non vi dico per trovare sento dei mormori non so se si riferiscono a Johnny Depp sì secondo me si sento rumori insieme beh non vi dico la fatica veramente per trovare questa foto di Johnny Depp perché l'idea di uscire con questo personaggio era legata all'uscita di un suo film quello poi era proprio il suo periodo però proprio per quel motivo noi che volevamo essere comunque qualcosa di diverso che volevamo dare comunque un'immagine diversa le immagini che si trovavano in giro di Johnny Depp erano tutte uguali tutte già viste usate stereotipate per cui per trovare qualcosa di veramente nuovo ci abbiamo messo veramente giorni cioè abbiamo fatto delle ricerche presso le agenzie cioè alla fine non c'era nulla che che ci piaceva veramente finché finalmente siamo riusciti a trovare presso una piccolissima agenzia francese che non si sa per quale motivo queste foto di un fotografo non famoso ma mai viste e quindi particolarmente interessanti perché eravamo veramente in affanno con i tempi avremmo visionato veramente migliaia di foto e alla fine scegliemmo questa che tra l'altro arrivò non non in alta ma in una versione intermedia in alta significa in alta definizione insomma con un livello qualitativo che fosse adatto per la qualità di una carta patinata e soprattutto essendo appunto XL un giornale che da nome era extra large quindi con un formato molto grande che non si sgranasse che avesse quindi ce la siamo fatta anche questa a rimandare tre volte perché non si capisce come ma avevano sempre ci riproponevano la stessa foto a definizioni sempre un po' più alte ma mai di grande qualità poi l'abbiamo comunque rilavorata eccetera e finalmente siamo riusciti ad avere questa cosa beh questo primo numero ha venduto una cifra spropositata cioè che oggi veramente ha venduto 212 mila copie una cosa di questo tipo certo usciva con un cut price a un euro e un periodo in cui come dire qualsiasi non dico qualsiasi cosa mettessi in edicola ma insomma le cose funzionavano si trattava di nove anni fa cioè non era geologica ma veramente sembra passato un millennio per come sono le cose adesso e quindi fu veramente un un successo straordinario devo dire io appunto nell'approcciarmi a questa cosa pensai veramente a fare qualcosa che fosse l'opposto di musica nel senso che musica aveva avuto sicuramente dei grandissimi meriti ma non sembrava più in grado di attirare l'attenzione né dei lettori né degli investitori pubblicitari quindi e secondo me una delle motivazioni della sua debolezza era il fatto che appunto si presentasse in un formato tutto sommato estremamente dimesso cioè uno spillato carta brutta e quindi così non non aveva più fascino era perso mordente la gente non lo leggeva non lo comprava gli investitori non compravano più la pubblicità quindi la mia proposta fu di fare un prodotto totalmente agli antipodi patinato e appunto di grande formato e quindi da lì dall'idea del grande formato extra large il titolo XL che costituiva anche qui una sintesi e poi guarda caso anche qui era un periodo in cui stava ritornando una nuova ondata di hip hop accennavo prima al fenomeno delle posse ecco lì c'è stata quella che possiamo considerare il secondo grande ritorno dell'hip hop nella scena italiana in questa prima fase XL si rivolgeva come dicevo prima sicuramente a un pubblico più giovane nel senso che anche attraverso la grafica il nostro tentativo era di fare un giornale il più trasversale possibile che cercava di prendere per mano il lettore e che costava a noi una fatica è un lavoro incredibile devo dire perché attraverso un faticosissimo lavoro di titolazione sommario didascalie ogni spazio della pagina era riempito affollato di informazioni in modo tale da dare una spiegazione anche a chi si approcciava non conoscendo nulla di certa musica di certo cinema eccetera però ecco il tentativo della trasversalità era questo da un lato attraverso questo sistema di titoli sommari didascalie cercavamo di aiutare chi non aveva conoscenze nel campo però al tempo stesso le titolazioni spesso e volentieri pur essendo spera cioè quanto meno quello è il nostro tentativo pur essendo chiare dovevano riuscire ad evocare attraverso giochi di parole o riferimenti anche a chi invece ne sapeva di più un mondo legato a ciò di cui si andava a parlare per cui era un lavoro estremamente complesso da realizzare e in realtà comunque gli editori anche allora in cui le risorse erano maggiori non è che fossero così come dire anche nel gruppo pubblico espresso i soldi non si sono mai sprecati anzi quindi noi abbiamo sempre avuto una redazione ridotta all'osso in sostanza la stessa redazione che faceva musica si è poi dedicata a fare XL con un paio di persone in più in sostanza però eravamo una dozzina di persone in sostanza calcolate che il giornale in quel periodo aveva una folliazione altissima che in alcuni casi superava le 300 pagine e che avendo appunto questo grandissimo lavoro di desk costituiva per noi uno sforzo micidiale e questo appunto è quello a cui si riferiva lui prima che costituisce il lavoro giornalistico vero quello che appunto online una webzine tendenzialmente non fa e è un lavoro veramente molto molto pesante insomma perché appunto si parte dalla riunione di redazione ma poi da lì a declinare appunto un timone che tenga conto delle cose cercando poi di fare delle cose in maniera originale e poi riportare tutto a casa ma facendo questo tipo di operazioni è veramente una cosa che per noi costituiva un impegno non solo full time lavorativo ma insomma spesso si facevano veramente le nottate sicuramente i primi periodi insomma per cui poi naturalmente quando le situazioni si assestano diventa un po' più facile gestire però comunque fu sempre così ecco nel primo periodo volevamo subito cercare di dare anche un'idea non essere un giornale che si occupava solamente di musica ma anche di altre cose quindi di cinema e quindi il secondo numero decidemmo di mettere in copertina un'attrice Scarlett Johansson come come adesso gli uomini fanno uh ah sì infatti infatti no ma meno vedo perché poi passiamo appunto a un personaggio come Robbie Williams ma appunto poi ovviamente non potevamo non mettere quella che ma ecco la percezione nei confronti di Vasco sono cambiate negli ultimi anni nel senso che otto anni fa Vasco veniva ancora considerato un grande poi ultimamente anche ogni volta che lo postiamo su Facebook le reazioni sono vecchio schifoso fatti da parte eccetera eccetera le più generose che però dovete morire siete morti che però sono cose anche assurde perché cioè io penso che se le giovani generazioni anche musicalmente parlando sono capaci cioè non è Vasco che deve mettersi da parte andare in pensione Vasco finché riempie gli stadi finché ha gente che lo va a vedere fa benissimo ad andare avanti saranno le nuove generazioni che dovranno dimostrare di essere in grado di fare musica che riempie gli stadi insomma per cui prendersi il posto di Vasco cioè non è che questo in tutti i campi non è che uno arriva e ti dice ah ma prego fatti avanti no? cioè sei tu che devi portare come dicevo prima la tua innovazione le tue capacità in un contesto e renderti unico per quello che sai portare ecco poi dopo Vasco invece Green Day e qui ci avviciniamo a un mondo per esempio che io personalmente prediligo maggiormente perché poi naturalmente c'è anche questo da dire che fare un giornale a grande diffusione non vuol dire fare il giornale che piace a te quello che rappresenta no? quello che ascolti significa fare un giornale che tiene conto anche di quello che la gente ascolta per cui si fa un ragionamento ovviamente su quello che soprattutto per quello che riguarda la copertina può essere interessante per un certo tipo di pubblico in in un certo momento e poi vabbè andiamo avanti con maggiore velocità qui un altro tema legato anche al mondo comunque di un certo cinema che comunque ci piace che Excel ha sempre trattato quello della fantascienza e che ritorna anche perché appunto il nostro tentativo era quello di non sovrapporci con i temi trattati dal nostro quotidiano da Repubblica per cui questa invece è un'altra copertina di cui sono particolarmente fiero perché è una copertina legata al film Viper Vendetta tutti sapete che oggi è diventato una sorta di simbolo a tutti gli effetti dei vari movimenti Occupy Notav Grillini insomma l'hanno utilizzato più o meno propriamente tutti quanti noi non soltanto appunto scegliamo di fare una copertina ma divulgamo anche il romanzo il capolavoro creato da Alan Moore e disegnato da David Lloyd che tra l'altro è appena stato ospite al Romics di cui XL era media partner lo scorso weekend e quindi insomma anche lì siamo molto contenti di essere stati dei precursori da un certo punto di vista ecco XL ha fatto alcune cose molto importanti credo una di queste mi viene in mente mentre ve lo sto raccontando è stata per esempio quella di essere stato il primo giornale a grande diffusione a dare spazio a un personaggio allora completamente sconosciuto che si chiamava Roberto Saviano noi facciamo un'intervista a Saviano molto prima che uscisse Gomorra e la cosa avvenne così grazie tra l'altro a un vostro concittadino di Bari uno scrittore che allora che io avevo notato con musica arrivando a Roma lessi questo libro Occidente per principianti mi colpì e facemmo qualcosa su musica poi il suo stile di scrittura mi piaceva in realtà beh intanto cito il nome perché non l'ho ancora detto si chiama Nicola La Gioia e ha scritto un libro che si intitola Riportando tutto a casa che racconta la Bari degli anni Ottanta questo è il suo ultimo lavoro uscito un paio d'anni fa un lavoro molto interessante uscito per Inaudi che lo ha consacrato come uno degli scrittori italiani più interessanti di questo periodo e veramente racconta questo mondo cioè il mondo della Bari anni Ottanta insomma allora però aveva scritto soltanto questo no aveva scritto un altro libro e poi questo Occidente per principianti che mi colpì molto e mi piaceva il suo stile di scrittura quindi era diventato un nostro collaboratore una delle proposte che ci portò in quel periodo venne in redazione e disse ma guardate io quest'estate ho conosciuto questo tizio stranissimo un personaggio veramente interessante che si intrufola in matrimoni di camorristi vestito da cameriere che si è beccato anche una coltellata eccetera e insomma il profilo ci interessava quindi diciamo va bene prova a intervistarlo perché e ci portò quindi questa intervista in cui lui raccontava veramente delle cose pazzesche tant'è che noi prendemmo anche le nostre precauzioni cercammo di andare a verificare le varie fonti per il timore di beccarci querelio ovviamente però tutto funzionava e quindi pubblicammo questa intervista dopodiché siccome ci interessava proprio il personaggio a quel punto decidemmo invece di mandare lui a intervistare una delle realtà più interessanti in quel periodo della Napoli hip hop un gruppo chiamato Cosang che arpava in dialetto napoletano facendo veramente dei dischi splendidi di grandissima intensità purtroppo non hanno mai avuto il successo che avrebbero meritato vivevano a Marianella in una zona veramente difficile di Napoli e mandammo Roberto assieme a un fotografo e a quanto pare il fotografo tornò veramente sconcertato e poi non era un tipo impressionabile perché ne aveva viste molte però per dire l'intervista avvenne in una di queste case credo forse proprio in una delle vele di Scampia per dire accanto c'è un laboratorio dove facevano il crack tipo e nelle foto ci sono personaggi che poi mi hanno spiegato questo era un sicario questo era uno che spaccia insomma gente veramente pazzesca però appunto le foto erano straordinarie cioè il panorama comunque umano cioè che si vedeva era incredibile assolutamente per cui rispetto appunto a gruppi nella scena hip hop che si atteggiano a gangster beh insomma lì c'erano i gangster veri e la musicalità del dialetto napoletano trasposta all'hip hop funzionava in maniera veramente straordinaria per cui Roberto portò questo articolo bellissimo devo dire insomma si vedeva già che c'era un talento in atto dopodiché appunto un po' di mesi dopo uscì il suo libro che tra l'altro a Roma presentammo noi in sostanza cioè io l'ha detto ai libri di XL che si chiamava Eugenio Cirese e Nicola La Gioia per cui la prima presentazione che allora era ancora per un piccolo gruppo di persone avvenne lì e devo dire che poi Roberto comunque ci restituì il favore nel senso che una volta diventato famoso fece per noi un'altra intervista in questo caso ai subsonica di cui apprezzava il lavoro spendendo appunto bellissime parole per noi scrivendo una cosa tipo quando nessuno credeva in me XL e quindi ecco la bellezza di fare questo lavoro è anche questa appunto poi ribadisco proprio una mia fissa il cercare di dare spazio ai talenti emergenti nei vari campi nella scrittura nella musica sicuramente perché un'altra delle cose che vi raccontavo prima che siamo andati naturalmente avanti a fare è stata proprio questa anzi che facciamo con una continuità sempre maggiore cioè la parte degli allegati che sono appunto quasi sempre allegati originali per cui non lo so abbiamo fatto mi piace citare le cose alla fine più di nicchia tra l'altro nel senso che sono le cose per cui io ho sfidato in qualche modo il mio stesso marketing interno che non credeva in certe cose e che poi invece per fortuna hanno avuto un successo e mi hanno consentito di andare avanti a farne altre per esempio l'EP di luci della centrale elettrica di Vasco Brondi ogni volta che dicevo voglio fare il cd di luci della centrale elettrica mi pigliavano in giro perché non addetto ai lavori il nome sembra molto bizzarro per cui ho faticato la preparazione di queste EP è durata quasi un anno in sostanza dal primo incontro con Vasco a Milano in cui abbiamo più o meno definito l'idea della cosa il continuo confronto con lui perché la cosa bella è anche questa il fatto che appunto in questi casi ci si confronta direttamente con l'artista cercando di capire quali possono essere anche le cose che possono funzionare meglio nel senso che per me ovviamente nel momento in cui vado a proporre un artista completamente sconosciuto il marketing mi dice sei pazzo perché noi con gli allegati siamo costretti a uscire con almeno 20-25 mila copie per riuscire ad arrivare non in tutte le edicole perché sono 33 mila ma almeno nelle edicole delle principali città insomma e quindi dobbiamo veramente stare molto attenti perché può rivelarsi un bagno di sangue e quindi mi hanno detto va bene se proprio ci tieni fai questo luce centrale elettrica però almeno che ci sia un nome che possiamo spendere in termini di cover e per fortuna questa è un'idea che già Vasco aveva aveva in mente un pezzo naturalmente un pezzo di ultranicchia di De Gregori e poi un pezzo dei ccp fedeli della linea che però quello si è cambiato in corsa attraverso discussioni varie eccetera che vabbè non è che una cover dei ccp rappresenta un motivo d'acquisto così forte però insomma quantomeno per una parte di pubblico per quello più oltransista qualcosa invece rappresenta e infatti sono molto contento perché alla fine di questo disco siamo riusciti a venderne 11-12 mila copie e quindi è diventato un successo e mi ha permesso di andare a ripetere poi l'esperimento con altri personaggi come ad esempio Verdena anche loro appunto non un gruppo da pubblico di massa ma adesso per fortuna il discorso si fa diverso rispetto a un tempo in cui esisteva il pubblico di massa adesso non esiste più adesso esistono le nicchie come ci insegna Chris Sanders autore appunto della teoria della coda lunga nonché direttore di Wired America adesso non più però lo è stato esistono oggi tante piccole nicchie che messe insieme diventano più grandi del mainstream e quindi nel fare un giornale oggi questa è sicuramente una delle cose di cui tenere conto appunto cioè un giornale come XL tiene sicuramente conto della parte diciamo più mainstream del suo pubblico perché è inevitabile che ciò avvenga perché comunque è anche un modo democratico di approcciarsi cioè non vogliamo comunque essere una setta per quello appunto eventualmente esistono le webzine esistono le riviste specializzate però con i gruppi emergenti che ci piacciono su cui lavoriamo facciamo un discorso speciale particolare che poi si riverbera in tutta una serie di altre attività nel senso che quando dicevo che ormai XL non è più solo un giornale di carta mi riferisco proprio a questo da un lato c'è la carta che tiene dentro appunto tutte queste varie nicchie dall'altro lato ci sono appunto gli allegati che poi però possono diventare anche un'esibizione live che in qualche modo noi patrociniamo per esempio nel festival che l'anno scorso Repubblica ha tenuto a Bologna la Repubblica delle Idee e che quest'anno terrà a Firenze dove XL ha tenuto una sua maratona di gruppi emergenti dove abbiamo avuto gruppi come Tra Allegri Ragazzi Morti Paolo Benvenu Management del Dolore Post Operatorio Nobraino e poi anche una parte di interessantissimi gruppi pugliesi che hanno animato particolarmente la giornata perché si trattava di gruppi che facevano reggae o hip hop o un mix di cose come Boom Dabash Mamma Marias e poi non pugliesi ma sempre reggae i mellow mood quindi abbiamo avuto un trittico diciamo di reggae e di intorni che ben si sposava appunto con anche perché a Bologna sapevamo che c'erano tanti fan di questo genere musicale quest'anno ripeteremo l'esperienza quindi ecco la nostra idea veramente è cercare di prendere i gruppi che ci piacciono e fare qualcosa di diverso qualcosa che incredibilmente non si riesce a volte a capire nel senso che alcuni ci accusano dicono ah siete dei venduti vi occupate cioè ma Vasco Brondi vi paga oppure il teatro degli orrori perché quando noi ci appassioniamo di una cosa andiamo avanti a proporla irritualmente cioè nel giornalismo italiano si ritiene che esce il disco si fa il pezzo poi fine si passa ad altro no se a noi piace un gruppo noi andiamo avanti anche per sei mesi a parlare di questo gruppo è incredibile perché è una cosa talmente trasparente sono cose che i giornali stranieri hanno sempre fatto New Musical Express quando c'era Melody Maker eccetera una parte della mia formazione è quella lì per cui non ha non ha senso per me questo tipo di cose invece in Italia si vede sempre dietro questo tipo di cose qualcuno che paga ma ma è totalmente irrazionale pensate voi quel poveraccio di Vasco Brondi se può pagare XL per pubblicare ogni mese qualcosa su di lui è qualcosa di completamente insensato oppure il teatro degli orrori cioè non è così ci piacciono e vogliamo farli diventare qualcosa di importante è per questo che ne parliamo e la stessa cosa l'abbiamo fatta con un gruppo per esempio che si chiamava Baustelle un gruppo che ai tempi noi già seguivamo ma il manager mi mandò tanto per farvi un esempio il disco con grande anticipo e io lo ascoltai si trattava della malavita rimasi folgorato e quindi due mesi prima dell'uscita pubblicai una recensione la recensione del mese su XL e poi andammo avanti a parlarne per sei mesi di fila ma vi dico questo perché quando uscì la recensione la casa discografica venne colta completamente di sorpresa cioè la casa discografica neanche sapeva che io avevo in mano questo disco per dirvi come lavoriamo e come veramente la casa discografica non solo non ci paga ma a volte neanche a conoscenza di quello che noi stiamo facendo su quel gruppo cioè che poi magari le case discografiche si approccino con metodi old style chiedendo cose quanto spazio mi dai noi non gli diciamo nulla ma se una cosa ci piace siamo ben oltre quelle che sono le richiestine che vengono fatte dall'ufficio stampa sugli spazi sulla cosa eccetera noi odiamo questa cosa che è una sorta di misura un tanto al chilo però ecco noi che cerchiamo di fare qualcosa di diverso spesso forse anche perché mi rendo conto siamo la realtà più importante veniamo accusati si pensa che appunto la longa mano della multinazionale faccia chissà che ma spesso invece è contro la multinazionale spesso appunto la multinazionale neanche lo sa nel caso appunto dei Baustelle non è una loro priorità cioè non gli interessava neanche e questo veramente nel caso di molti altri gruppi pensate che alla UEA io andai ai tempi volevo parlare dei La Cruz e questi mi dissero ma perché vuoi parlare dei La Cruz è un gruppo triste ma parla dei cattivi pensieri questo è il gruppo che avrà un futuro eccetera naturalmente i cattivi pensieri cioè sono durati una sola estate è una proposta pseudo pop di bassissima lega mentre bene o male La Cruz sotto varie forme comunque Marco Romano Giovanardi è ancora qui e fa delle cose secondo me ancora molto belle è una delle voci comunque più belle della scena italiana l'anno scorso il Petruzzelli è venuto per fare Modugno e insomma si è comportato più che egregiamente però ecco questo per dire cioè a volte perché l'esperienza in una webzina o in un piccolo giornale è stata di quel tipo si pensa che a maggior ragione invece un grande giornale subisca ancora di più questo tipo di pressioni e influenze è esattamente il contrario o almeno è quello che cerchiamo di fare noi cioè un grande giornale ha un potere contrattuale diverso per cui alla major che arriva e che cerca di contrattualizzare spazi ed esposizioni la risposta è guardate noi non facciamo questo tipo di lavoro se vi va noi andiamo avanti per la nostra strada e facciamo questa cosa altrimenti pazienza cioè amici come prima cioè non ci cambia nulla noi ormai la nostra funzione è quella di segnalare le cose che riteniamo più importanti perché oggi come oggi per quanto riguarda la musica c'è spazio per dieci pezzi al mese bene o male quindi a fronte di una quantità di uscite mensili che non lo so sono 300 400 non è possibile quindi già il fatto di operare una scelta no è una cosa importante la linea editoriale in sostanza è questa cosa qua certo poi bisogna essere capaci di avere una propria linea editoriale di non farsi dettare da altri una linea editoriale ma sinceramente quelli che hanno provato a farlo sono stati tendenzialmente sempre respinti al mittente se in qualche caso la proposta si allineava con quella che era la nostra scelta benissimo altrimenti si andava avanti per diverse strade non so potrei citarvi moltissimi episodi a questo proposito non sono comunque divagazioni fa parte del mestiere questo saper capire saper rapportarsi a quello che ti chiede un ufficio stampa e da questo punto di vista è triste dirlo però una delle colpe anche delle major è il fatto che non hanno quasi mai avuto uffici stampa veramente all'altezza è una professione che in ambito musicale è stata sempre molto svalutata anche con una forma di sessismo abbastanza nel senso che si è quasi sempre ritenuto che a fare l'ufficio stampa nella musica dovesse essere una ragazza giovane carina che però incidentalmente non sapeva nulla dell'argomento di cui parlava esatto direi che rappresenti proprio invece una categoria di buon posto e però soprattutto nelle major parlo del periodo appunto in cui ancora le major avevano qualche potere contrattuale era veramente desolante avere sempre a che fare con persone che venivano lì si rapportavano a te in maniera quasi petulante venendoti a dire ripetendo macchinetto un concetto di cui non ti fregava sinceramente nulla perché comunque conoscevi molto meglio tu il personaggio che ti venivano a proporre non so magari ti venivano a proporre ah c'è questo gruppo che ci sta esplodendo tra le mani si chiamano Nirvana e tu i Nirvana li conoscevi no? già li avevi appunto visti al famoso Bloom di Mezzare cioè era una cosa penosa sinceramente e devo dire che purtroppo nel corso degli anni in tutti i licenziamenti vari che ci sono stati nelle major una legge quasi improrogabile è stato che hanno licenziato i migliori cioè se c'è una persona competente brava appassionata del proprio lavoro potevi scommettere che nei licenziamenti nei primi licenziamenti veniva è purata è una cosa veramente molto triste purtroppo è un peccato è un peccato devo dire che per fortuna appunto con l'affermarsi delle etichette indipendenti la maggior parte delle persone intelligenti ha saputo invece poi crearsi un lavoro diverso e finalmente è diventato invece piacevole appunto rapportarsi a certe realtà perché con alcuni degli ex più discografici più intelligenti che poi magari sono diventati ufficio stampa di un'etichetta indipendente o addirittura hanno fondato un'etichetta indipendente il rapportarsi è stato piacevolissimo perché i livelli di competenza di passione erano vicini erano analoghi e quindi in questi casi è bello riuscire a lavorare in sintonia qui si riescono in questo caso a fare delle cose a costruire delle cose che hanno una qualità reale perché l'ufficio stampa rispetta il tuo lavoro e le tue competenze e tu lavori in sintonia con loro è anche capace di capire quello che è il tuo target di riferimento naturalmente non ti viene a far perdere tempo cercando di forzarti sapendo quella è la tua linea editoriale cioè inutile che un ufficio stampa mi venga a proporre un progetto ultra pop ultra mainstream eccetera verranno a proporre cose più interessanti eppure per tanto tempo non è stato così e questo è bene o male il lavoro quotidiano tendenzialmente che si affronta nelle redazioni poi XL ha avuto altre due incarnazioni in sostanza abbiamo avuto un primo restyling tre anni e mezzo fa in cui abbiamo deciso di cambiare il target di riferimento nel senso che abbiamo deciso di renderlo un po' più adulto questo per vari motivi prima di tutto perché ormai attraverso internet quel tipo di lavoro di cui vi ho parlato che facevamo attraverso questo paziente lavoro sul titolo sul sommario sulla scalia anche nella stesura del pezzo in cui si cercava di non dare niente per scontato secondo noi è diventato accessibile attraverso internet quindi quel tipo di lavoro tendenzialmente lo svolgeva la rete e quindi si poneva ormai un tema di tipo diverso cioè quello della qualità quello della diversità cioè tu come giornale di carta dovevi avere qualcosa che gli altri non avevano e questo qualcosa dovrebbe essere qualitativamente superiore a quello che potevano avere le webzine quello che si trovava in rete così potevano avere i giornali più piccoli quindi la qualità la qualità fatta di servizi fotografici realizzati ad hoc e interviste più lunghe in qualche caso molto più lunghe e un giornale sicuramente più essenziale e più elegante quindi via tutti gli spazi riempiti molto più spazio ai bianchi e così è stato in sostanza dopodiché siccome ormai poi i tempi si fanno sempre più veloci per cambiare l'altro ci avevamo messo tipo 5-6 anni per fare il terzo restyling ce ne abbiamo messi due perché l'anno scorso praticamente a marzo abbiamo fatto un restyling ancora più radicale di cui sono molto contento perché secondo me questo terzo XL che è quello che appunto abbiamo oggi in edicola è in assoluto il più bello e il più elegante che abbiamo mai realizzato e qui appunto abbiamo deciso la forma e sostanza diceva Giovanni Ferroretti beh insomma qui abbiamo deciso di fare un giornale che qualitativamente puntasse moltissimo sull'immagine abbiamo speso un sacco di soldi per cercare una carta che avesse il massimo livello di qualità che potesse appunto tenere le foto al massimo livello e quindi abbiamo realizzato questa terza incarnazione appunto e qui il tema dell'esclusività ovviamente diventa ancora più importante per cui in questa fase in cui c'è troppo di tutto come dice Fibra in una canzone sua dell'ultimo disco e che è veramente profetica in qualche modo oggi che c'è un information overload bisogna puntare su quello che invece nessuno ha per cui per esempio questo numero che è uno dei più belli secondo me che abbiamo mai realizzato ha due esclusive veramente importanti una è quella dell'intervista a Tom York e non solo dell'intervista cioè abbiamo passato quasi una giornata con lui prima del concerto ci siamo rivisti poi dopo il concerto ma soprattutto l'abbiamo fotografato cioè sono usciti praticamente tre servizi fotografici in tutto il mondo dedicati a Tom York uno di questi è quello realizzato in Italia da Excel l'altro è per Dazed e l'altro quello interno del loro fotografo per cui siamo stati veramente molto molto felici di aver realizzato questa cosa in più dentro c'è quest'altra cosa per me molto importante perché per ora vi ho parlato sempre di musica ma sicuramente il fumetto dopo la musica è una delle cose importanti di Excel e sono stato veramente molto felice di aver avuto l'onore il privilegio non solo di intervistare un personaggio completamente scomparso dalle scene da anni ma di andare a trovarlo a casa sua luogo in cui nessuno da vent'anni nessun giornalista da vent'anni mette piede si tratta di Tiziano Sclavi creatore di Dilan Dog personaggio che io amo moltissimo io appunto oltre alla musica amo il fumetto sono lo ammetto un collezionista di Dilan Dog dal primo numero e secondo me Dilan Dog è stato veramente un giornale importante ne discutevamo appunto in questa intervista perché in un periodo di berlusconismo trionfante trasmesso attraverso un certo tipo di immaginario televisivo quello di Dilan Dog è stata una vera e propria controcultura cioè Tiziano Sclavi attraverso Dilan Dog ha offerto un'immagine diciamo dell'Italia migliore nel senso quella che ha un certo tipo di etica che legge se voi siete lettori di Dilan Dog avete visto che da sempre il tema dell'ecologia dell'animalismo del rispetto per le minoranze delle diversità del ruolo delle donne insomma tutto questo senza retorica in un fumetto comunque con delle sceneggiature straordinarie fumetto che è diventato un vero proprio fenomeno sociale quindi per me è stato veramente io di solito così non siccome non credo nel ruolo delle star nel mondo del fumetto cioè quello che ci piace andare a trovare tendenzialmente le anti-star e sinceramente più uno più un artista si atteggia meno mi è simpatico tendenzialmente per questo amo invece personaggi come Tommy Ork che non hanno veramente questo tipo di poi vabbè con Tommy Ork c'è un rapporto speciale anche in questo caso che dura da molti anni però ecco il caso di Sclavi è un caso veramente particolare perché questo è un uomo che nonostante quello che ha costruito ha veramente cioè vive completamente isolato e nemmeno si sminuisce continuamente il suo lavoro che invece è un lavoro per me estremamente importante e è veramente bello quando appunto si incontra una persona che tanto ha fatto e che non solo appunto come si dice non se la tira ma non ha neanche neanche la coscienza veramente di quanto possa essere stato importante perché poi appunto alla fine le cose di massa le cose che arrivano a un pubblico il più trasversale possibile sono le cose veramente importanti cioè a differenza di quello che è un certo chiamiamolo hipsterismo del periodo cioè la modalità hipster di accesso all'informazione che vorrebbe cioè la modalità hipster è se lo conoscono più di dieci persone allora non vale più la pena passo ad altro no invece che poi è una cultura del consumo iper accelerata che alla fine non tiene neanche realmente conto della qualità invece no se una cosa ha qualità questa cosa qua vale la pena proprio di di portarla avanti di farla conoscere cioè di divulgarla a più gente possibile non deve essere cioè nel mondo indi veramente c'è questo fenomeno no appunto per cui appena uno ha un minimo di successo basta traditore eccetera ma vogliamo permettere alla gente di vivere attraverso il proprio lavoro per questo siamo così in sintonia con Antonio Princigalli con Puglia Sounds uno degli slogan di Puglia Sounds è la musica è lavoro quando io ho visto questa cosa cioè loro hanno fatto anche dei nastrini questi li abbiamo messi nella nostra redazione a Repubblica perché io vi giuro a volte anche per i nostri colleghi è difficile far capire che quello che noi facciamo è lavoro nel senso che sicuramente dietro c'è una grande passione ma in realtà è proprio per questa grande passione che lavoriamo così tanto sicuramente la musica è lavoro e la musica la scrittura sono lavori non sono passatempi non sono divertimenti è un concetto veramente difficile da far passare è una cosa di cui parlavamo anche tra l'altro qualche anno fa con un altro illustre conterraneo vostro Caparezza che appunto lui ci raccontava della difficoltà di far capire che quello che lui faceva insomma per l'appunto era un lavoro al vicino di casa per esempio ma insomma un po' per tutti è così anche con Carmen Consoli c'era la stessa cosa tra l'altro Caparezza è un altro personaggio che mi piace ricordare perché anche con lui c'è stato un cammino addirittura appunto vi dicevo dai tempi di tutto musica quando post Mickey Mix ci mandò una prima cassettina noi lo selezioniamo l'ascoltiamo ma questo Caparezza è interessante infatti anche con lui il cammino iniziò da lì e poi ecco pensate addirittura con i Negra Amaro lo ricordavamo qualche tempo fa con loro lì la cosa avvenne quando loro proprio erano completamente sconosciuti mandarono due brani per un concorso di cui io ero parte della giuria assieme a Dem TV e la scelta di una parte di noi del pubblico più rock andava in direzione di questo gruppo che si chiamava Negra Amaro non vinsero però anche lì ci rimase nella testa quel nome e poi appunto andammo avanti nel tempo a seguirlo assistendo con gioia i successi che andavano raccogliendo per cui ecco il lavoro nostro è un lavoro un po' strano anche rispetto al giornalismo tradizionale perché è un mix di cose che il giornalista vabbè ogni giornalista deve avere il fiuto per quella che è la sua materia cioè il giornalista che si occupa di musica o comunque di cultura eccetera deve cercare di capire quali sono i fenomeni e noi appunto siamo lieti che in alcuni casi si tratta appunto di fenomeni che bene o male riguardano il nostro mondo il nostro target in altri casi come il caso citato di Saviano ma tutto sommato anche il caso dello stesso Nicola Laggioia vanno oltre cioè si tratta di personaggi che XL ha intercettato per primo e che comunque sono poi entrati nel mondo di Repubblica a tutti gli effetti vabbè Saviano in primis ovviamente poi è diventato una firma di punta per l'Espresso e per Repubblica però appunto il piccolo XL è stato il primo a dargli spazio ecco noi dentro il mondo Repubblica siamo una sorta di piccola nave pirata in sostanza con il privilegio di poter fare le nostre cose ma anche con questa fatica perché appunto di fatto noi ci occupiamo di tutto quello di cui il giornale madre tendenzialmente non si occupa il che va benissimo perché non ci sovrapponiamo ma in qualche caso è anche difficile far capire il giornale madre per l'appunto il valore di quello che facciamo noi riteniamo che comunque ci sia una parte di cultura che tutto sommato i grandi media non trattano e insomma che forse varrebbe la pena di trattare di più il fumetto e la musica sono sicuramente due di queste parti il cinema anche lì il cinema certo viene trattato dei quotidiani però il cinema di cui si occupa XL è un cinema anche qui di tipo diverso è un cinema tendenzialmente di genere beh questo mese torniamo una copertina dopo tanto tempo che è anche un po' cinematografica non solo però sì di fatto si basa su un film in questo caso noi questo mese abbiamo realizzato quello che è il primo numero tematico della storia di XL in concomitanza con l'uscita di una serie di cose quindi abbiamo fatto un numero dedicato al tema dell'orrore ma che crediamo sia leggibile anche da chi non apprezza appunto l'orrore in quanto genere perché di fatto raccontiamo un pezzo di storia del cinema di genere ma soprattutto un pezzo di storia italiana perché per fare questa cosa abbiamo coinvolto Dario Argento e Claudio Simonetti dei Goblin e anche qui siamo andati a creare completamente Ex Novo rivolgendoci alla Cinevox che è questa prestigiosa etichetta discografica da cui sono passati tutti i più grandi autori di colonne sonore italiane e non solo perché lì sono passati anche Emerson Lake & Palmer una serie di personaggi vari da Ennio Morricone ai Goblin per cui abbiamo costruito Ex Novo un CD che abbiamo intitolato Terror Drum in omaggio a una nostra sezione che si chiamava Videodrome e ovviamente in omaggio al film di David Cronenberg ma al tempo stesso che si relazionasse appunto al loro issue e quindi siamo usciti con un CD di 22 brani che attraversa tutta la storia del cinema di genere l'abbiamo messo insieme proprio noi in redazione in sostanza cercando di creare proprio anche un percorso musicale che andasse di pari passo con quella che è la tematizzazione del giornale tanto per dire il film di Rob Zombie in copertina si intitola Le streghe di Salem e parla di streghe e la compilation che abbiamo approntato inizia con Suspiria sostanzialmente cioè c'è una intro di Ennio Morricone che abbiamo voluto mettere lì anche per ricordare da dove vengono certe intuizioni di fantasma il disco dei Baustelle che tanti successi di critica e anche di pubblico ha mietuto e sta mietendo con un'opera molto difficile il disco più difficile dei Baustelle per arrivare poi appunto a veramente intrecciare una sorta di filo rosso in cui si passa attraverso tutti i generi i pezzi più noti da Suspiria a profondo rosso appunto ma anche delle chicche incredibili come per esempio una straordinaria session percussiva che abbiamo messo dopo Suspiria e che rivela quella che oggi chiameremmo exotica il mondo lounge eccetera che un po' di anni fa a partire dalla rivista research americana è andata rivalutando quella che veniva considerata musica elevator music musica ad ascensore o comunque la musica per supermercati quella che William Barrox definiva Muzak e che invece poi è stata rivalutata proprio da una rivista research americana da cui è nato tutto il fenomeno che ormai è un fenomeno in realtà già quasi passato ma che ha avuto anche lì in Italia alcuni degli esponenti più interessanti tant'è che vi posso rivelare questo simpatico aneddoto Quentin Tarantino è un un collezionista assiduo delle colonne sonore della Cinevox ha proprio un pusher di dischi in vinile strettamente collegato con Cinevox che gli procura tutto quello di raro che riesce a intercettare sulla piazza romana insomma e quindi anche questo è stata una cosa bellissima una grande emozione mettere insieme maestri come Dario Argento Claudio Simonetti che raccontano uno un'epopea del cinema di genere l'altro di una musica italiana che allora si rifaceva al cosiddetto movimento prog ma che poi è andata specializzandosi in altro creando ex novo un cd che tematicamente adasse ad accompagnare una copertina e che poi per il circolo appunto virtuale virtuoso di cui vi dicevo prima si va poi declinando anche negli eventi perché io domani da qui andrò al Future Film Festival a Bologna con cui abbiamo stretto una media partnership perché il suo tema è Tweet the Monster quindi è un festival dedicato all'horror e non è casuale tutto questo perché in tempi di crisi in realtà l'horror è un genere che rinasce tutte le prossime produzioni del cinema americano cioè tutte le prossime moltissime produzioni in maniera anomala saranno dedicate a questo tipo di cinema perché hanno visto che negli ultimi due anni sono gli unici che hanno sempre costantemente guadagnato partendo magari da budget anche molto bassi e vabbè in realtà anche qui si potrebbe discutere a lungo perché veramente l'horror è una cartina di tornasole della società per cui l'analisi di questo fenomeno è per questo che voglio dire XL è estremamente stratificato nel senso che questo tema sullo sfondo c'è e poi andiamo a declinarlo poi nelle nostre varie presenze ai festival Aromics che è l'altro evento a cui abbiamo appena partecipato abbiamo proposto una parte ludica con una zombie walk una maratona fatta assieme a Fox dedicata a Walking Dead ma poi abbiamo fatto anche una tavola rotonda con Giona Nazaro che è un critico cinematografico tra i più lucidi e interessanti dell'ultimo periodo in cui per l'appunto abbiamo analizzato che cosa vuol dire questo ritorno dell'horror che cosa significa il fatto che oggi la figura dello zombie sia una figura che sta colonizzando l'immaginario attraverso appunto un fenomeno come quello di Walking Dead che nasce come underground e che diventa invece un fenomeno mainstream poi abbiamo avuto anche Roberto Orecchioni che è un per chi non lo conoscesse un altro personaggio molto importante uno degli sceneggiatori più interessanti di Dylan Dog ma soprattutto di John Doe che è stato anche quella una piccola grande produzione del fumetto italiano questo è per raccontarvi bene o male in breve che cosa vuol dire fare giornalismo oggi quindi da quello che vi ho raccontato vi rendete conto che non è più sufficiente prendere andare fare la semplice intervista fare un giornale oggi è andare a creare un ecosistema estremamente complesso complicato stratificato in cui si cerca di mettere insieme più elementi fino ad ora vi ho tacciuto quella che poi in realtà è se non la parte più importante però quella parte che comunque ci permette di avere oltre a momenti come questo che sono momenti importantissimi perché appunto vedo delle persone in carne ed ossa davanti a me che poi interagiranno con me attraverso delle domande con noi attraverso delle domande ma l'altra parte veramente importante ovviamente è quella virtuale XL ha la seconda pagina Facebook in Italia per interazioni o meglio questo mese la quarta però siamo arrivati al secondo posto che è un risultato importantissimo perché è una classifica l'unica classifica scientifica realizzata da blog meter che analizza appunto i nuovi media nello specifico in questo caso Facebook ed è una classifica tra l'altro in cui non ci sono semplicemente i media ma ci sono i marchi in in generale per cui ecco magari questa cosa ve la faccio vedere perché è abbastanza interessante da visionare a meno che scusate io ho parlato a lungo ma vogliamo fare una pausa e poi passo a raccontare la parte social network che esatto ok allora ci vediamo tra una decina di minuti un quarto d'ora ok ok